Ad una nuova puntata dell'Atex Show. Il settore degli eventi, della formazione, è uno dei più colpiti. In otto o nove settimane è successo quello che, o è successo di più di quello che è successo negli ultimi 3, 4, 5 anni. Continuare a pubblicare e realizzare novità che vengono immesse sul mercato, questo è un aspetto molto importante anche di relazione tra gli artisti e i fan. Abbiamo tutti quanti compreso meglio che cosa significa trasformazione digitale e quanto sia importante questa trasformazione digitale. Tutto questo sta cambiando e sta cambiando radicalmente. Il canale online verso l'offline che in qualche maniera non rientrerà totalmente ai numeri di prima. La tecnologia automatizza delle cose manuali. Leonardo a un certo punto vuole andare a lavorare a Milano. Buonanotte. Una nuova puntata dell'Atex Show. Il settore degli eventi, della formazione, è uno dei più colpiti. In otto o nove settimane è successo quello che, o è successo di più di quello che è successo negli ultimi 3, 4, 5 anni. Continuare a pubblicare e realizzare novità che vengono immesse sul mercato e questo è un aspetto molto importante anche di relazione tra gli artisti e i fan. Abbiamo tutti quanti compreso meglio che cosa significa trasformazione digitale e quanto sia importante questa trasformazione digitale. Tutto questo sta cambiando e sta cambiando radicalmente. Il canale online verso l'offline che in qualche maniera non rientrerà totalmente ai numeri di prima. La tecnologia automatizza delle cose manuali. Leonardo a un certo punto vuole andare a lavorare a Milano. Buonanotte. Ad una nuova puntata dell'Atex Show. Il settore degli eventi, della formazione, è uno dei più colpiti. In otto o nove settimane è successo quello che, o è successo di più di quello che è successo negli ultimi 3, 4, 5 anni. Continuare a pubblicare e realizzare novità che vengono immesse sul mercato e questo è un aspetto molto importante anche di relazione tra gli artisti e i fan. Abbiamo tutti quanti compreso meglio che cosa significa trasformazione digitale e quanto sia importante questa trasformazione digitale. Tutto questo sta cambiando e sta cambiando radicalmente. Il canale online verso l'offline che in qualche maniera non rientrerà totalmente ai numeri di prima. La tecnologia automatizza delle cose manuali. Leonardo a un certo punto vuole andare a lavorare a Milano. Buonanotte. Una nuova puntata dell'Atex Show. Il settore degli eventi, della formazione, è uno dei più colpiti. In otto o nove settimane è successo quello che, o è successo di più di quello che è successo negli ultimi 3, 4, 5 anni. Continuare a pubblicare e realizzare novità che vengono immesse sul mercato e questo è un aspetto molto importante anche di relazione tra gli artisti e i fan. Abbiamo tutti quanti compreso meglio che cosa significa trasformazione digitale e quanto sia importante questa trasformazione digitale. Tutto questo sta cambiando e sta cambiando radicalmente. Il canale online verso l'offline che in qualche maniera non rientrerà totalmente ai numeri di prima. La tecnologia automatizza delle cose manuali. Leonardo a un certo punto vuole andare a lavorare a Milano. Buonanotte.